Giovedì 16 dicembre alla Sala Corsa di Grotta Mare si è svolto un convegno organizzato dai promotori del Parco Marino del Piceno, Relatori Carlo Retusi, Presidente dell'Area Marina Protetta di Torre Cerrano, e Carlo Cerrano, Docente di Inzologia all'Università Politecnica delle Marche. Presenti sindaci, molti cittadini, ambientalisti e anche rappresentanti di categorie produttive. L'ex Presidente della provincia Massimo Rossi ha spiegato i motivi per cui il Parco Marino sarà una risorsa, anche se qualcuno teme eccessivi vincoli. Allora, i pescatori hanno soltanto da avvantaggiarsi perché non è che mano a mano che diminuisce il pescato si tratta di aumentare lo sforzo per pescarne sempre meno. Bisogna pensare alla prospettiva, l'aumento e il miglioramento degli stocchi ittici va nella loro direzione. È un discorso che si costruisce gradualmente con una regola, con delle discipline che possiamo noi decidere dal basso piuttosto che imposte dall'alto. Per quanto riguarda i balneari, lì veramente ci sono delle fake news a Torre del Cerrano, che è l'area marina più vicina. Hanno solo stabilito che nelle spiagge libere la pulizia, perlomeno nelle zone di riserva, non viene con i mezzi meccanici ma avviene con particolare attenzione per evitare che laddove ci fossero nidi o dune, le stesse non venissero danneggiate. Roberto Cameli, Presidente dell'Associazione Questione Natura. Siete favorevoli all'istituzione del Parco Marino del Piceno? Perché? Il futuro del nostro mare è il Parco Marino del Piceno. Una volta San Benedetto era uno dei più grandi porti italiani e oggi per raggiungere quei risultati non possiamo che fare una transizione ecologica che porterà vantaggio a tutti, a tutte le categorie e soprattutto assicurerà un futuro bellissimo per tutti i giovani. Con Gerardo Fragoletti, Presidente del Consorzio dei Bongolari Piceni, perché avete dei dubbi sull'eventuale istituzione del Parco Marino del Piceno? Abbiamo anche un consorzio di gente dove c'è l'area maniera della Torre del Cerrano, ne stanno pagando le conseguenze perché a lungo andare, sforzando le stesse imparcazioni sulla rimanente aria, adesso stanno in difficoltà. Perché? Perché su quella zona non ci si può pescare. Se mi date l'opportunità di pescare in quella zona, anche in svariati mesi durante l'anno concertato con l'ente parco, allora sì che io acquisto magari anche un valore aggiunto sul prodotto, ma se su quell'area non mi ci fai pescare perché dici che sono distruttivo, cosa non vera, il mio prodotto non c'ha la coda. Il mio prodotto nasce, cresce e muore lì. Pietro Aureli, rappresentante di Cupra Mare e Baleare, quali sono i vostri timori nell'eventualità che il Parco Marino del Piceno venisse istituito? Il primo timore è una leggera disinformazione perché io ho fatto un po' di telefonate tra San Benedetto, Grotta Mare, Pedazzo eccetera, pochi sono informati su questa evoluzione della riproposizione del Parco Marino Protetto. L'altra preoccupazione era quello che era successo nel 2004, nel 2008, quando c'era stato lo sviluppo di questo progetto, dove i piani di spiaggia venivano messi in discussione da un ente ulteriore, che era quello del Parco Marino.